Siamo noi sanitari che dovevamo scendere in piazza contro i Novax e urlare contro lo sfacelo che si sta compiendo. È lo sfogo affidato ai social che arriva dal consigliere comunale Comasco del Partito Democratico e infermiera all'ospedale Sant'Anna, Patrizia Lissi. Lavorare e curare i Novax è veramente molto dura, sentire le loro frasi, le loro motivazioni è intollerabile, continua Lissi che usa parole molto dure contro coloro che hanno rifiutato la vaccinazione anti-covid e punta il dito anche contro la politica sanitaria regionale. Non è scontato che un paese ti curi gratuitamente, scrive ancora sui social, non importa se nei pronto soccorso, ci sono persone con altre patologie che aspettano il posto letto da giorni perché le liste d'attesa sono diventate lunghissime. Ricordo, scrive Lissi, che Regione Lombardia negli ultimi anni ha cancellato 22.000 posti letto, poi aggiunge a tutti coloro che hanno strumentalizzato, aumentando la confusione pur legittima, e a chi parla perché deve aprire la bocca a tutti questi e auguro tante notti insonni. Infine, un invito a tutti, una regola chiara e semplice per scongiurare il rischio contagio, mascherine FFP2, distanziamento e igienizzazione.